Mi raccomando, contro il Covid vacciniamoci tutti, mi raccomando ragazzi, su tutti e siamo salvi. Vacciniamoci tutti per tornare ad incontrarci in tranquillità, per viaggiare e per riaprire la scuola in presenza e in sicurezza. Invitiamo gli sportivi a vaccinarsi. Vacciniamoci, è un dovere, è una sicurezza, ne va della salute di tutti. Vacciniamoci. Vacciniamoci tutti e subito, onde evitare la variante Delta del Covid. Io mi sono vaccinato, fatelo pure voi. A tutti gli atleti vi dico vaccinatevi. A tutti i ragazzi di San Salvo vacciniamoci contro il Covid. La vaccinazione salva la vita, non solo la tua, ma anche quella dei tuoi cari. Già mi sono vaccinato. Vacciniamoci tutti, così almeno riusciamo a superare questa pandemia. Vacciniamoci. Vaccinarsi è un obbligo sociale. Invito tutta la cittadinanza San Salvo a farlo. Grazie. In qualità di Presidente della Camera di Commercio Chiedi Pescara, voglio dare un messaggio. È quello che l'Italia sta ripartendo. Le attività produttive hanno ripreso piede, anzi alla grande. Sarebbe un peccato arrivare a fine estate e ritornare indietro. Per cui consiglio a tutti di vaccinarsi perché è un dovere morale per noi e per i nostri simili.